Marco, Andrelli di G24, quanto vale questo punto e come ti stai trovando a Frosinoni in una realtà così importante per la Serie B? Sì, siamo contenti di allungare la striscia positiva con questo punto. Era sicuramente una partita contro un avversario molto ostico, molto preparato tatticamente e c'è un po' di rammarico anche per le occasioni che abbiamo avuto, che comunque potevamo riuscire a sbloccarla, però comunque rimane un buon punto. Di Ruzza il tifoso, altra bella partita quella disputata da te. Come ti sei trovato ad avere Maglielo al tuo fianco? Bene, bene. Mi sono trovato benissimo. Lui è un giocatore molto forte, con molta esperienza e è sempre bello avere uno così comunque a fianco che ti aiuta, che riesci a esprimerti meglio anche tu. Capito a gente comune, cosa avete sofferto di più oggi dell'organizzazione difensiva della Salernitana? Abbiamo sofferto un po' il fatto che loro comunque rimanevano abbastanza chiusi e compatti dietro, anche se, ripeto, siamo riusciti a creare più di un'occasione e direi che dobbiamo guardare il bicchiere in mezzo pieno dopo questa partita. L'ultima, visca tu sport, dopo un avvio di stagione dove hai visto poco il campo, ora stai trovando finalmente continuità. Come stai fisicamente? Sì, sì, sto bene. Mi sono allenato, penso, sempre bene. Ho aspettato la mia occasione e adesso spero di continuare ad aiutare la squadra.